Un grasso mattino, il pacifico Eric Herbol si svegliò con un'abnorme screscenza che gli sporgeva dalla testa. Oh crosto! Gridò Eric che era molto ma molto turbato. Decise comunque di tirare avanti come da norma. Perché preoccuparsi dopo tutto? Ma sì, infatti. Accadde però quella notte che una strana vocina sembrava chiamarlo per nome. Eric! Eric svegliati! Sono un'escrescenza sulla tua testa! Aiutami Eric! Ok, ok, non agitarti ti aiuterò io. Ma a fare cosa esattamente? Non importa! Quel che conta è che Eric si affezionò ben presto al suo nuovo amico. Chiamami Eric, disse lui. Chiamami crosta, rispose lei. E lo era. Da quel giorno in avanti tu non vedevi mai Eric senza la sua grande crosta in testa. E fu così che Eric Herbol perse il suo lavoro come insegnante di ballo per ragazzi storpi. Ricordo le dure parole del preside. Non permetteremo mai che ci sia un mostro a insegnare ai nostri ragazzi. Più o meno così si era espresso.